Tutta quella città non si riusciva a vederne la fine. La fine. Per cortesia si potrebbe vedere la fine. Era tutto molto bello su quella scaletta e io ero grande, con quel bel cappotto. Facevo il mio figurone e non avevo dubbi che sarei sceso. Non c'era problema. Non è quello che vedi che mi fermò Max. È quello che non vedi. In tutta quella sterminata città c'era tutto, ma non c'era una fine. C'era tutto, tranne la fine. Quello che non vedi era dove finiva tutto quello. La fine del mondo. Tu penso pianoforte. I tasti iniziano. I tasti finiscono. Tu lo sai che sono 88 e su questo nessuno può fregarti. Non sono infiniti loro. Tu sei infinito. E dentro voi 88 tasti la musica che puoi fare è infinita. Questo a me piace. In questo posso vivere. Ma se io salgo su quella scaletta e davanti a me esistono una tastiera di milioni di tasti, milioni e miliardi di tasti che non finiscono mai. Perché questa è la verità. Che non finiscono mai. Allora su quella tastiera non c'è musica che puoi suonare. E sei seduto su seggiorino sbagliato. Quello è il pianoforte. Su cui suonati no. Cristo! Ma le vedevi le strade? Anche soltanto le strade. Ce n'erano a migliaia. Ma dimmi come fate voi altri laggiù a sceglierne una? A scegliere una casa? A scegliere una donna? Un paesaggio da guardare. Un modo di morire. Io ci sono nato su questa nave, Max. E vedi anche qui il tempo passava. Ma non più di più mila persone mi importa. E di desideri ce n'erano. Sognami la tua felicità sulla tastiera che non è l'infinità. Questo è un viaggio. In questo posso vivere. Va bene. Grazie.